benvenuti al Brennero avete visto che noi abbiamo tirato fuori un vecchio slogan mamma sei proprio sicuro che quella che mangia tuo figlio o tua figlia non contenga schifezze io questo non ve lo so dire non ve lo so dire però c'è un tema su tutti che quei cosci di maiali lì ma io mi ci gioco la testa diventeranno prosciutti italiani made in Italy e questo non è possibile siamo qui per poter scoprire e per poter ammazzare questo grande inganno oggi al Brennero un luogo storico e importante per Coldiretti qua abbiamo condotto tantissime battaglie sulla trasparenza sul mettere il cittadino e il consumatore al centro di qualsiasi nostra azione di carattere politico e sindacale soprattutto la redditualità dei nostri imprenditori sono centinaia i camion che stanno passando che trasportano prodotti agroalimentari con un paradosso in Italia subiranno solo l'ultima fase di trasformazione e dove non sono DOP verranno venduti in tanti casi con l'utilizzo del tricolore italiano questo non è più accettabile vogliamo una giusta trasparenza rispetto a quelle che sono le informazioni che devono essere date i cittadini consumatori poi siano i cittadini a scegliere con consapevolezza cosa acquistare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti